Non potevo non parlarvi del nuovo aggiornamento di Capture One, che nella versione 16.5 introduce due nuove funzionalità che saranno utili a molti di voi. Io sono Marco, fotografo pubblicitario, vivo e lavoro a Londra e qui sul canale condivido video di fotografia e post-produzione. Se ancora non mi conoscevi ti invito a iscriverti al canale, lasciando un mi piace, un commento di supporto e dai un'occhiata a tutti i link utili qui sotto in descrizione. So che molti di voi non utilizzano Capture One. Alcuni lo trovano difficoltoso, altri invece non si trovano semplicemente con il passaggio da Lightroom o qualsiasi altro software che sia a Capture One. Ma io continuo a portarlo sul canale perché veramente ci credo tanto. Lo utilizzo ormai da 6 anni, se non di più. È veramente un software assurdo. Cioè le funzionalità che introduce rispetto ad Adobe che in realtà sta andando verso una strada un po' che non mi piace. Veramente cerca sempre di aggiungere cose che sono realmente utili ai fotografi. Vediamo di cosa si tratta. Potete aggiornare Capture One se ancora non l'avete fatto andando in Capture One qui in alto e verifica aggiornamenti. Ovviamente in realtà quando si apre il software compare diciamo la notifica pop-up quindi sicuramente lo avrete già aggiornato. Ma andiamo a vedere un po' più nello specifico cosa è stato introdotto. In particolare la funzione che più mi piace è quella che permette di andare a seguire un match del look, quindi il preset della fotografia con una reference che noi andiamo a dare. E qui non si tratta solo di andare a cambiare il bilanciamento del bianco, luce, eccetera. No, va proprio a creare il color grading e questa cosa è davvero pazzesca. Uno perché riusciamo proprio a avere una reference che possiamo creare noi, che possiamo trovare in internet se vogliamo ispirarci a un film, qualsiasi cosa essa sia, ma soprattutto sincronizzare questa in modo costante tra tutte le fotografie, appunto poi con la versione adattiva. Come funziona? Allora innanzitutto qui ho caricato delle fotografie alle quali possiamo andare a eseguire alcune modifiche. Diciamo sulle foto appunto di strada possiamo andare ad applicare magari un preset per farvi vedere questa funzione di match look. Qui nella libreria ho creato una cartella con delle foto reference, ne ho scelte tre in particolare. Quindi se andiamo nel menu qui a lato in match look, se non l'avete basta andare in finestra, creiamo una finestra fluttuante e la trovate qui in mezzo. Quindi cosa faccio? Semplicemente iniziamo ad esempio con questa fotografia già selezionata, la trascino qui in match look e posso andare a selezionare cosa deve andare a fare. Quindi noi possiamo scegliere di andare a eseguire e applicare tutto il look, quindi scansionare la fotografia, applicare tutto il look oppure solo determinate cose. Infatti vedete che se apro il sottomenu possiamo ad esempio copiare e ricollare lo stile di esposizione e bilanciamento del bianco che magari a noi può non interessare, quindi lo spuntiamo o lo deselezioniamo. Impostazioni di contrasto e tutto il resto e poi come vi dicevo anche l'aggiustamento proprio dei colori. Quindi va a toccare proprio il color editor, cosa che in realtà prima o comunque in generale non era possibile fare. Così come anche il tono di ogni singolo colore e quindi andare a toccare saturazione, luminosità, proprio la tonalità del colore stesso in modo selettivo. Questa cosa veramente è fantastica. Una volta quindi che abbiamo selezionato il preset possiamo andare sulla nostra fotografia al quale vogliamo applicarlo. Quindi torniamo ad esempio su questa fotografia e possiamo semplicemente andare a selezionare applica. Qui abbiamo la possibilità di scegliere l'impatto, quindi quanto sarà fedele alla reference, quanto vogliamo miscelare all'interno della nostra fotografia il preset, ma cosa che vi consiglio di fare è che possiamo andare a creare un nuovo livello sul quale applicare la color, così non andiamo a modificare tutto il nostro edit di base. Quindi andiamo in applica e come vedete appunto secondo me è molto simile alla foto di reference. Abbiamo un po' più di verde qui nella parte alta perché ovviamente i colori sono diversi, non possiamo aspettarci da una foto in un contesto completamente diverso, diciamo un look molto simile, ma veramente rispetto alla foto di reference ha fatto un lavoro assurdo. Questa è scattata di giorno quindi magari può essere un po' più difficoltoso. Applichiamo e vediamo cosa succede. Infatti qui magari sarebbe stato comodo andare a spuntare di non eseguire il match della luminosità o dell'esposizione e infatti se andiamo a riportarla diciamo come era, quindi scattata a zero, ci può stare come tono. Andiamo a fare la prova adesso con un'altra fotografia di reference, quindi vado sempre qui nella cartella dei miei preferiti che ho creato. Mi trascino un nuovo look, in questo caso andiamo a impostare un look molto caldo. torno sulle mie fotografie, posso andare di nuovo ad applicare il preset, ma vado comunque a eliminarmi quello che è il livello di regolazione precedente, vado ad applicare la regolazione e come vedete abbiamo quindi questo tono un po' più caldo. Facciamo la stessa cosa qui, possiamo anche non cancellarlo, semplicemente va a sovrascrivere, quindi non è ancora possibile avere più look magari per appunto poter spuntare una o l'altra, ma andiamo ad applicarlo anche su questa immagine. Ovviamente ci sta anche da dire qui che la reference è una fotografia diciamo molto scura, scattata di notte, questa è una foto di giorno quindi non ci possiamo aspettare le stesse cose, anche se appunto essendo una foto di notte avrebbe dovuto lasciare almeno l'esposizione a zero. Però vi ripeto, una volta che lui lavora i colori possiamo andare poi noi a regolare e a micro regolare alcune impostazioni. In questo caso io l'avrei fatta un po' più calda, avrei spinto un po' di più le curve perché la reference, qui mi avverso addirittura le ombre ma io diciamo le avrei chiuse rispetto alla reference, però possiamo andare appunto come vi dicevo a scegliere se andare a toccare o meno. Proviamo a utilizzare un impatto estremo, vediamo cosa succede. Ecco qui andiamo a perdere un po' il senso, mentre se abbassiamo l'impatto abbiamo una fotografia un po' più fedele a quello che era in look naturale. Vi faccio vedere anche su questa foto modello, magari andiamo a utilizzare un impatto 100. Qui per esempio ci può stare, quindi abbiamo questo look caldo. In generale secondo me è un ottimo modo veloce per andare proprio a fare una color, innanzitutto da magari shooting che abbiamo già realizzato in passato per clienti, per altri progetti e cose varie ma soprattutto ispirarci poi per progetti personali ad esempio a film o comunque fotografie che vediamo online. Questa cosa veramente assurda, soprattutto per chi all'inizio magari non è in grado di eseguire una color correction molto avanzata. Ma l'altra funzione che mi ha lasciato proprio senza parole è un qualcosa che ha introdotto anche Adobe sia in Lightroom che Camera Raw ovviamente è tutto sulla stessa base, sono le maschere per le persone perché non solo abbiamo la possibilità di selezionare quelli che sono i soggetti ma possiamo addirittura scegliere cosa selezionare. Questa cosa è fantastica perché senza passare da Photoshop si possono fare delle regolazioni molto veloci. Infatti se andiamo qui a selezionare abbiamo questo nuovo pulsante persone e abbassiamo diciamo clicchiamo sulla freccetta guardate possiamo andare a scegliere cosa andare a selezionare. Iniziamo a selezionare ad esempio le labbra. Creiamo una maschera, farà i suoi calcoli, adesso non la vediamo, zoomiamo, vado a premere M da tastiera per abilitare la maschera, ecco le nostre labbra selezionate. Lo ripremo in modo da farvi vedere quella che è la regolazione, vogliamo dare un po' di colore lo faccio proprio con il bilanciamento del bianco, cosa che non dovete assolutamente fare ma ve lo faccio velocemente senza andare a utilizzare il color editor. Poi se vogliamo andare a selezionare ad esempio gli occhi della modella, deselezioniamo quelle che sono le labbra, creiamo una nuova maschera, quindi in questo caso possiamo ad esempio schiarire un po' gli occhi. Ovviamente questa cosa io non la consiglio perché poi andiamo sempre sul creare queste fotografie un po' troppo fake, ma mettiamo caso che ci serve fare una regolazione di colore, una regolazione di esposizione, magari diamo giusto un po' di luminosità, 5 punti sugli occhi, vi faccio vedere prima e dopo, praticamente quasi non si vede. Andiamo a creare una nuova maschera, magari la pelle del viso, vogliamo andare a rimuovere della nitidezza sul viso, vi faccio vedere innanzitutto la maschera. Ecco guardate, mi ha selezionato proprio solo la pelle del viso, perché poi possiamo selezionare anche la pelle del corpo. E qui magari vogliamo togliere della nitidezza, vogliamo renderla più luminosa, meno luminosa, un po' più calda, un po' più fredda, fare delle regolazioni veloci, quindi ci sta, avete capito un po' il senso della cosa e queste maschere funzionano veramente, veramente molto bene. Poi se vogliamo andare, come vi dicevo, a selezionare la pelle del corpo, creiamo una maschera, ve la faccio vedere, cioè il modo in cui va a selezionare è perfetto, cioè dalle prime prove che ho fatto veramente è assurdo il modo in cui va a lavorare. E soprattutto aver differenziato pelle viso e pelle corpo è molto importante, perché spesso ad esempio col make-up si va molto ad agire sul viso ma non sul corpo. Quindi in questo modo possiamo andare ad esempio a cambiare un po' il tono del colore per eseguire un match col viso e questa cosa è davvero molto importante. Infatti vedete, posso andare a schiarire in questo caso un po' il corpo della modella che rispetto al viso è un po' meno luminoso. Aumentiamo anche la luminosità e un po' la saturazione. Lasciate stare ovviamente che la foto di base non l'ho proprio editata, sono passato direttamente a farvi vedere la funzione, ma appunto avete capito un po' come funziona. E la cosa ancora più assurda è proprio il modo in cui va a selezionare i capelli. Andiamo a creare infatti una maschera di selezione dei capelli, ve la visualizzo sempre premendo M da tastiera, cioè guardate com'è sfumata anche qui sul corpo. Ovviamente questi capelli piccolini è impossibile ancora oggi almeno, però vi rendete conto di quanto è precisa. andiamo a deselezionare e anche qui se vogliamo schiarire un po' i capelli, vogliamo dare molto più contrasto, un po' di colore, cioè avete capito un po' il senso. Vi faccio vedere che lavora bene anche in fotografie, magari con dettagli un po' più piccoli. Qui ad esempio se vogliamo selezionare i capelli, andiamone a selezionare, vi faccio vedere la maschera sempre premendo M, guardate, perfetta. Andiamo a creare una nuova maschera, magari qui selezioniamo gli occhi, addirittura c'è una selezione per le sopracciglia. Vediamo com'è la selezione, cioè guardate, perfetto. Vedete qui il modello ha delle sopracciglie molto sfumate sul biondo, molto chiare, quindi un po' difficile fare una selezione più precisa, però diciamo che si comporta veramente bene. Con l'introduzione appunto delle AI abbiamo molti vantaggi per quanto riguarda le maschere. Tra l'altro abbiamo anche il nuovo pennello con selezione AI, infatti come succede ad esempio in Photoshop, se vado a selezionare il soggetto mi va a creare una maschera. Vedete che è ancora un po' imprecisa e se per esempio posso selezionare parti della fotografia, posso trascinare per selezionare ad esempio, guardate, solo il viso eccetera, però ho una maschera di base che posso andare poi a microregolare con quelli che sono i pennelli standard. E vedete che appunto, secondo me, l'introduzione di tutte queste maschere e selezioni veloce è davvero molto interessante, soprattutto per chi magari fa matrimoni, eventi, cose dove appunto bisogna fare delle regolazioni, magari in una foto di gruppo, ci sono diverse situazioni, possiamo andare a fare delle maschere molto precise senza passare per Photoshop. Io vi invito a provare queste funzionalità perché secondo me sono super interessanti e vi invito soprattutto a iniziare a utilizzare Capture One perché secondo me da qui a 5 anni sarà veramente assurdo il modo in cui utilizzeremo Capture One. Purtroppo non posso farvi vedere la funzionalità che permette anche di eseguire un crop automatico delle fotografie, quella è disponibile nella modalità studio, magari mi tengo l'attivazione del trial quando introdurranno qualcosa di più concreto. Lì semplicemente come si fa in questo caso, si va a caricare una fotografia ad esempio ritagliata solo sul volto, semplicemente andiamo ad applicare il preset su questa fotografia e farà un ritaglio semplicemente solo sul volto. Molto utile per chi come ad esempio come me va a scattare in studio e-commerce dove appunto c'è bisogno di eseguire sempre lo stesso crop. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento di supporto, noi ci vediamo in un prossimo video e ricordate di scattare tantissime bellissime foto. Un saluto da Marco, ciao a tutti! Grazie a tutti!